L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale ha un nuovo numero verde, che risponde all'800 81 11 83. L'Ufficio, che rappresenta un punto di accoglienza e di informazioni sulle attività e le iniziative del Consiglio Regionale e della Regione, per cittadini e per le scuole in visita a Palazzo Lascaris, ha cambiato anche l'orario di apertura. È aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30.